Noi ci siamo! È un corso di lingua italiana per ragazze e ragazzi della secondaria, perché nel mondo l'italiano a scuola è con Elie Edizioni. Il corso è in tre livelli, A1, A2, B1, e si concentra sullo sviluppo delle quattro abilità comunicative, parlare, leggere, ascoltare e scrivere. La struttura agile e pratica agevola l'assimilazione in maniera intuitiva del lessico e della grammatica. Il corso presenta una veste grafica innovativa, con unità didattiche snelle, moderne e dal doppio approccio, induttivo e deduttivo, per comprendere facilmente regole e norme. Noi ci siamo! È un corso ricco di materiali con temi attuali e tante attività, per rendere le lezioni vivaci con esercizi comunicativi, mappe grammaticali, glossari, vocabolari illustrati, video e civiltà, prove per la certificazione e schede di autovalutazione per ripassare al meglio. Noi ci siamo! È un corso composto da il libro dello studente, l'eserciziario e un ricco apparato digitale integrato con tante attività e proposte extra. Preziosa la guida per l'insegnante in tre volumi, con ampliamenti didattici, foto per parlare e verifiche per la classe. Vieni a conoscere il corso Noi ci siamo! Perché nel mondo l'italiano a scuola è con Ellie Edizioni!